Ciao a tutti ragazzi, qui Mick Cosentino e oggi mi è venuto a trovare a casa Dario Silvestri e stavamo proprio chiacchierando di un bel po' di cose, lavorative, non lavorative, e anche non lavorative, soprattutto anche non lavorative, e Dario in questi mesi ha lanciato il suo novissimo libro che io sto spogliando, l'ho letto, insomma è veramente qualcosa di molto molto impattante, ecco perché? Perché parla di cambiamento, no? Però innanzitutto grazie Mick, sono qua a casa veramente di Mick, quindi assolutamente con un benvenuto anche a Suon di Pizza, quindi è stato super super gentile, gentile due volte perché Mick è a dieta Quindi sono a dieta, quindi non ho mangiato il pollo, quindi guardavo lui mangiare la pizza e voi che state guardando dall'altra parte, quindi vera ospitalità su serio Grazie anche di avere questo libro tra le mani, in effetti è uscito il 5 di aprile, si chiama Il potere del cambiamento, prepara la tua mente per il successo e alla prefazione di Giorgio Chiellini che sono sicuro che conoscerete Penso che tutti conosceranno Giorgio Chiellini Assolutamente sì, stavamo proprio parlando in effetti di cambiamento piuttosto che del libro soltanto e mi stavo chiedendo in effetti quante volte Mick abbia dovuto affrontare il cambiamento in senso più ampio Si inizia, noi abbiamo un inizio del nostro percorso, poi incontriamo degli ostacoli Poi molto più spesso superiamo degli ostacoli, poi ne troviamo di più alti e li superiamo lo stesso Secondo me Mick è una di quelle persone che ha imparato realmente a capire dai propri errori ma soprattutto capire anche dalle cose giuste Stavamo cercando di capire anche quello che era un po' il contesto della sua offerta Nel senso io volevo cercare un attimo, io prima di tutto mi sono iscritto anche al suo corso non dico quale corso ovviamente e mi piace parecchio a fare le cose sempre meglio, quindi cambiamento se stiamo fermi ragazzi è impossibile, nel momento che stiamo fermi stiamo andando indietro il tempo va avanti, le cose vanno avanti e nel momento in cui noi decidiamo e pensiamo di essere arrivati a qualcosa ad esempio abbiamo avuto dei buoni risultati, sia io che Mick siamo diciamo arrivati a qualcosa che ci può piacere, questo però entrambi siamo piuttosto irrequieti e non ci basta perché sappiamo che stare fermi vuol dire spesso andare indietro Sì e poi Dario, penso che converrai anche con me, anche chi ci sta guardando dall'altra parte magari è a caso, in macchina, spero con macchina ferma e sta guardando, ascoltando questo video abbiamo tutti paura un po' del cambiamento, forse è una delle cose che più ci spaventano il problema è che però è qualcosa di inevitabile il cambiamento è inevitabile, hai ragione è inevitabile nel senso, quindi a questo punto, visto che stai guardando questo video state guardando questo video, anzi condividetelo perché penso che possa veramente aiutare tante persone e insomma non capita tutti i giorni avere anche due correnti di pensiero diverse ma che camminano praticamente verso lo stesso obiettivo in parallelo assolutamente esatto e convergono entrambi nel cambiamento esatto e cioè dato che il cambiamento è qualcosa che comunque avviene, no? perché domani noi avremo cellule diverse, avremo tutto diverso assolutamente tutto sarà diverso, anche se noi abbiamo l'illusione che sarà sempre tutto uguale ma questo non avviene esatto esistono poi cambiamenti attivi e cambiamenti passivi esatto ad esempio può cambiare qualcosa nella tua vita relazionale, può cambiare nella tua vita personale, familiare le persone vanno, le persone purtroppo a volte vengono perdute nella nostra vita e anche in campo aziendale, anche in campo professionale le cose cambiano totalmente cambiano anche molto velocemente come avrai visto nella tua vita e spesso il cambiamento è una delle cose che più accomuna e più è trasversale a tutti i contesti diversi in tutte le tasse quando siamo piccoli dobbiamo evolvere, cambiamo continuamente a una velocità rapidissima questo avviene però anche quando invecchiamo e ci dobbiamo accorgere di quello che sta succedendo dobbiamo non soltanto adattarci al cambiamento ma dobbiamo decidere il nostro cambiamento se chiedessi e ti chiedessi ci sono delle cose che tu vorresti cambiare nella tua vita per migliorare e avere più successo io dubito fortemente che qualunque persona potrebbe dire di no io direi che io stesso assolutamente io stesso ogni giorno e le abitudini ad esempio tutti noi abbiamo delle abitudini che sicuramente dobbiamo modificare per ottenere più risultati questo vuole essere un manuale vero e proprio una sorta di percorso una vera linea guida per arrivare a capire qual è il cambiamento prima di tutto capire da dove partiamo perché spesso noi vorremmo qualcosa ma quando lo otteniamo non ci piace ti sarà capitato di porti un bello obiettivo un grande obiettivo tutto qua tutto qua esatto allora probabilmente dovrai modificare dovrai adattare ma dovrai capire soprattutto cosa vuoi e se sei tu a volerlo sul serio perché una delle cose più reali nella nostra vita è che spesso prendiamo tante decisioni che non sono realtà in realtà le nostre vere decisioni noi siamo diciamo la nostra vita spesso è frutto di programmi e questi programmi sono fatti di limiti, credenze, paure, condizionamenti e questi sono stati normalmente condivisi e ci sono stati insegnati dalla nostra famiglia dai nostri, le persone che sono più a noi vicini, ai nostri amici e poi anche dalla società l'unica problematica grave è che inizi a decidere, andare in una direzione che spesso non è la tua inizi ad andare avanti, vai avanti prendendo decisioni da protagonista ma in realtà non sono le tue decisioni e cosa succede? Ti trovi in quella vita, in quella situazione in cui le cose sono molto distanti da quelle che ti farebbero stare bene incominci ad essere infelice, incominci ad essere ansioso, talvolta depresso e cosa succede? Sei sempre molto più distante dalla tua serenità o sicuramente dal successo che ti meriti una delle cose che più è collante di questo programma è anche se noi sappiamo che dovremmo cambiare qualcosa sono proprio le abitudini sono come una sorta di super colla che tiene tutto compatto anche quando tu lo sai e quando parlo di decidere di cambiare abitudini non parlo di quelle del ultimo giorno dell'anno le New Year Resolution in cui praticamente tu devi alla fine dell'anno adesso mi metterò a dieta piuttosto che da questo anno in poi cambierà tutto poi non fate assolutamente nulla, perché? perché comunque voi decidete ma siete nelle vostre abitudini, sono più forti di voi e siete in quel programma vecchio il tempo è fondamentale, dovete saperlo gestire, la decisione è l'elemento diciamo più crociale la mente, la mente è un computer incredibile, è un computer fortissimo solo che è un computer talmente forte, un mega computer che se lo imposti male, se lo programmi male va dritta nella direzione sbagliata a tutta birra e anche può essere intesa anche come una macchina, una macchina che non sai guidare bene e se sbagli le marci poi non arrivi e si alza troppo di giro oppure anche se una macchina con un motore potente ma usi le marci sbagliate non trova la coppia giusta, non ha i giri giusti e quindi dirai che la tua macchina è sbagliata, che tu sei sbagliato ma in realtà non stai soltanto guidando le tue opportunità al successo che realmente ti meriti e questa è una cosa che tutti noi abbiamo provato tutti noi abbiamo trovato un sacco di scuse perché poi il tempo è fondamentale la mente, le decisioni ma anche le scuse le scuse più tipiche ad esempio legate al tempo sono troppo giovane, sono troppo vecchio non è il momento giusto sono nato in una città sbagliata sono nato in una città sbagliata, in una nazione sbagliata se solo fossi nato vent'anni fa, se solo fossi nato tra vent'anni le cose per gli altri sono molto differenti nessuno mi capisce, non esiste o addirittura se fossi nato in un'altra famiglia c'è anche chi dice se fossi nato in un'altra famiglia cose che non sono proprio belle anche assolutamente sì per un genitore che sente una roba del genere dobbiamo imparare da questo bagaglio storico da questo anche programma che ci portiamo avanti a prendere quello che è di buono perché in realtà abbiamo un sacco di cose buone a fare spazio per il nuovo eliminare alcune cose e spesso doverle sostituire con qualcosa con qualche elemento che è realmente nostro e quindi dobbiamo fare il nostro programma cioè dovete scrivere la vostra vita ricordatevi che la vostra vita si può scrivere una volta sola perché molte volte andiamo avanti rimandiamo, procrastiniamo, andiamo avanti e pensiamo di poter scrivere questa vita in brutta copia brutta copia però è una brutta cosa perché poi non avete nessun tempo extra time per poter scrivere in bella quindi o la scrivete subito e ricordatevi che se anche avete scritto una vita che non era la vostra se avete concesso a qualcun altro di scriverla fino a quel momento voi potete continuare in quella direzione potete cambiare totalmente e farla finire diversamente farla evolvere diversamente ricordatevi che il momento giusto l'unico momento giusto per decidere è adesso non ci sono altre chance poi quante volte ti è capitato di vedere i tuoi colleghi collaboratori e anche competitors che dicevano una cosa ne facevano un'altra avevano un condizionamento su un'altra cosa dicevano a te che sbagliavi e alla fine non li hai più visti da nessuna parte zero se non ci evolviamo se non cambiamo se non miglioriamo ci estinguiamo tante volte non ce ne accoggiamo ma se tu guardi indietro nella tua storia vedrai un sacco di persone che credevi essere molto più avanti di te che adesso non ci sono più ieri sera stavo parlando con uno dei miei studenti e mi stava condividendo quello che era una realtà un po' difficile della sua vita aveva delle problematiche diciamo di forte dislessia inizialmente poi aveva molto veramente molto timido però l'avevo chiamato anche sullo stage ieri sul palco ed era stato in grado di parlare un po' e alla fine quando eravamo nel buffet gli ho detto guarda sei miglioratissimo bravo Federico veramente e lui mi fa e sai io parto un po' in svantaggio ho detto no no ricordati che a volte c'è della gente che è avvantaggiata prima ma si ferma presto tu piano piano hai fatto fatica sempre ma continuerei ad andare avanti dritto 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 quindi non esiste nessuno svantaggio che non possa essere poi colmato plasmato correttamente colmato e tramutato in qualcosa di eccezionale una cosa poi che ci tengo a dire è che realmente molte volte trova quello che ti piace fai le cose fatte bene tutti i giorni fai quella telefonata tu devi capire che è un potenziale eccezionale qualcosa di realmente eccezionale per fare della tua vita qualcosa di eccezionale devi trovare quello che è di straordinario in te e devi partire dal presupposto che c'è è molto complesso a volte a molto facile altre volte ma se non inizi a cercare quanto di eccezionale in te e smetti di cercare di ottemperare a quello che invece gli altri vorrebbero per la tua vita risultati io credo che se mica avesse fatto il ragioniere in banca il bancario oppure se avesse fatto anche l'avvocato non avrebbe mai raggiunto i risultati che ha raggiunto e che sta raggiungendo e che raggiungerà in futuro questo è garantito sono sicuro cosa voleva che cosa volevano i tuoi genitori che facessi nella vita beh guarda sicuramente non quello che sto facendo adesso mia madre spesso mi chiede ma tu che lavoro fai Dario poi ho scritto il libro e ha detto allora scrive il libro scrive il libro questa è una cosa che ha aiutato anche me a spiegare che cosa faccio alle persone che non capiscono che cosa faccio quantomeno dicono autore beh in realtà io non sono uno scrittore qua ho sintetizzato nel potere del cambiamento preparato amante per il successo quello che erano tante lezioni che ho imparato tante cose che ho dovuto superare e soprattutto ho cercato di sintetizzare un manuale un sistema per portarti a raggiungere il successo che meriti realmente a partire da adesso ma ritorniamo al fatto del cosa volevano che facessi dimmi la verità guarda probabilmente visto che io vengo dal mondo del nuoto insomma lo hai visto probabilmente pensavano che io sarei diventato un allenatore oppure un dirigente in piscina ci sta in qualche squadra o Michael Phelps o Michael Phelps che purtroppo non sono diventato anche se l'ho visto è alto si è alto come me e Mick assieme siamo tutti abbastanza alti ma lui però ecco sicuramente non questo e loro sono stati anche molto partecipi quando io ho iniziato questo cambiamento perché ho dovuto veramente e mi hai veramente rievocato un sacco di cose un sacco di cose che ho vissuto anche all'inizio della mia carriera poi come imprenditore online e io ero una persona completamente diversa quando nuotavo cioè voi provate a immaginare il nuoto è uno sport per introversi cioè nel senso io parlavo con me stesso da più di 20 anni ogni singolo giorno per 6 ore al giorno 7 ore al giorno sott'acqua quindi fuori non senti nessuno gli allenamenti sono talmente intensi che non riesci neanche a parlarti con i compagni di squadra quindi non è come altri sport e mi sono ritrovato ovviamente a dire ok perfetto ma io adesso ho una situazione che mi fa schifo l'unico modo che ho per cambiare la mia situazione è cambiare la persona che sono oggi certo e questa è una cosa che dovete tenere in considerazione sempre cioè il problema è la frustrazione nasce e sicuramente l'avrai riscontrato anche tu con i tuoi studenti lo vedo anche io con i miei e su questa cosa martello sempre ogni singolo giorno la frustrazione nasce nel momento in cui vogliamo ottenere dei risultati diversi da quelli che abbiamo oggi ma pretendendo di rimanere la stessa identica persona con i nostri dubbi con le nostre debolezze con le nostre cattive abitudini perché non vogliamo ovviamente cambiare il problema è che se tu vuoi che un risultato cambi quindi stai già mettendo il seme del cambiamento nei tuoi risultati è impossibile pensare di rimanere lo stesso anche solo lontanamente di rimanere lo stesso questo è una regola d'oro assolutamente cercare di avere migliori risultati facendo le stesse cose è assolutamente non soltanto deleterio è una cosa poco intelligente poco logica e si sa che le cose poco logiche bisogna seguire l'intuizione bisogna seguire il proprio istinto però nella direzione giusta quindi cercare di fare esattamente le stesse cose volendo qualcosa di diverso vi porterà ad avere tanta frustrazione e se siete quel tipo di persona a lamentarvi tanto io richiamo gli indignati speciali sono quelle persone ad esempio ah l'Italia il governo l'altro li trovi in fila alla posta o che salgono sul pullman e poi però ma dico se ne vada signora c'è tutto il mondo fa no io pretendo di rimanere oppure quelli ne ho alcuni che a livello professionale no ma va tutto male cambia ci sono un sacco di opportunità io sono un po' malato di questa cosa nel senso una sorta di virus del cambiamento perfettamente d'accordo tutti i giorni sento persone che mi chiedono un consiglio mi dicono ma come faccio da una parte entra dall'altra esce glielo dici alcuni non lo ascoltano alcuni ti dicono che lo capiscono non lo mettono in pratica e pochi però lo fanno e chi lo fa eccezionale sì sì no e poi c'è il modo per fare le cose assolutamente ma il fatto è questo ma poi è una cosa che noi viviamo da quando siamo piccolini cioè noi cambiamo costantemente ogni singolo giorno ma anche la persona la semplice persona che vuole mettersi a dieta che vuole cambiare è la stessa identica roba solo che magari siamo abituati o siamo portati a accettare il cambiamento per una cosa che decidono gli altri che decidono gli altri tipo guarda devi metterti a dieta devi cambiare quindi abitudini alimentari ma crediamo in qualche modo che il futuro invece sia stato scritto da qualcun altro è che noi non abbiamo nessun potere per poterlo fare il concetto di destino esatto è già scritto assolutamente o sono fatto così sono fatto così parli con uno e veramente ve lo giuro su tutto ciò che ho di caro io ero uno che pensava io guardavo i ricchi e pensavo vedi beati loro io non sarò mai un ricco perché non sono nato in una famiglia ricca oppure dicevo io non farò mai così oppure non avevo soldi periodo in cui veramente non avevo soldi dicevo vedi ogni cosa che faccio continuo a riconfermare sempre di più il fatto che non ho soldi e mai ne riuscirò ad avere in maniera alternativa questo è un circolo vizioso incredibile incredibile però le persone che riescono a toccare il fondo realmente toccano anche il proprio fondo interiore o danno quel colpo di piedi sul colpo da anche insomma oppure non ce la fanno non ce la fanno assolutamente però io sono sicuro che tu che ci stai guardando hai avuto momenti in cui ti sei lamentato hai avuto sicuramente momenti in cui ti sei sentito disperato che hai dato a qualche causa esterna qualche tipologia di bellità qualche scusa reale però la realtà è molto molto diversa nel senso che tu puoi farlo e hai tutto quello che serve adesso ma non sai come farlo beh direi che abbiamo fatto dal mio punto di vista e dal tuo punto di vista della nostra vita il fatto di aiutare supportare guidare le persone ad ottenere risultati direi che in un modo e diversamente in un altro lo facciamo tutti i giorni ci crediamo e a volte mi dicono what's your why qual è il tuo perché come mai e ti dico ragazzi per me cercare di supportare le persone con quello che ho imparato a raggiungere cose e superare limiti ostacoli che dà un senso a tutto ti dà un appagamento pazzesco quando i tuoi studenti ad esempio li vedi che hanno risultati gente che è venuta a te mi raccontavi una storia prima a pranzo sul discorso aveva i cani e ne ha fatto qualcosa di eccezionale è probabilmente vero che se non si fosse fidato di te no no oggi però è stata tua sicuramente quella azione e quella decisione però effettivamente se non avesse chiesto alla persona giusta sarebbe stato più complesso probabilmente sarebbe ancora lì quindi imparate anche a farvi consigliare invece che darvi tutte le soluzioni oppure a credere a tutte quelle informazioni quelle cose che vi dicono sempre le stesse persone a volte ti capita anche sono sicuro che hai un slancio di entusiasmo vuoi fare una nuova attività o anche una vecchia attività ma vuoi fare qualcosa con grande passione lo dici alla tua famiglia e ah ma veramente già lavori in banca per se dovresti fare questa cosa avviene continuamente ragazzi chiudetevi le orecchie è andato dritto a quello che era un sogno ma deve diventare un progetto i sogni non si realizzano a meno che non diventino progetti e progetti però si realizzano e come e spesso prima erano sogni esatto no e e poi una cosa proprio che ci permette magari anche di concretizzare ciò che hai appena detto che penso sia veramente una delle migliori esposizioni che che ho abbia mai sentito e studio e sono uno che studia tanto e ci spende anche un sacco e ci spende anche un sacco pratica e e il fatto che e questo penso che lo hai letto anche tu da 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 Ray insomma che il cambiamento è qualcosa che avviene sempre nel senso noi in questo momento siamo nel momento del cambiamento ieri eravamo nel momento del cambiamento ma alla fine io mi rendo conto dimmi se sbaglio se anche per te così che la vera bellezza di quello che facciamo sta proprio nel cambiamento il cambiamento spesso è qualcosa di complesso qualcosa di doloroso ma anche qualcosa di bellissimo e ti devo dire la verità il cambiamento è il percorso sì e molte volte vediamo il cambiamento soltanto come un momento in fausto terribile incredibile che vi prende tutte le energie e non sapete più dove metterle beh ragazzi il cambiamento invece è proprio la maggior parte della vostra vita evolvete e poi pian piano crescete e vi attestate avete bisogno di un ruolo avete bisogno di risultati ma se non seguite quello che è un vostro vero programma nel senso seguite sempre i programmi che gli altri vi hanno inculcato tutti quei condizionamenti quanti condizionamenti hai dovuto superare tanti tu vedevi anche quando eri in vasca a volte andavi bene il nuoto è uno di quelli sport come tanti sport dove la testa fa la differenza assolutamente in cui sei lì sei da solo contro il tempo non riesci a vedere neanche bene no conti fai conti fai però alla fine se ci credi hai risultati nuotando esattamente nelle stesse condizioni a volte crash quindi ragazzi dipende da come gestite la vostra mente da come gestite la vostra decisione ma sappiate che non potete sfuggire al cambiamento ma anzi il cambiamento può diventare un grande alleato della vostra vita e farvi ottenere risultati è successo che meritate sì è proprio questo cioè bisogna accogliere cioè abbracciare il cambiamento perché tanto è qualcosa che voi avete già a questo punto visto che ce l'ho già oh famici danzare insieme per magari creare qualcosa di bello e torniamo un attimo al libro questo libro veramente molto bello quali sono secondo te ho già visto che ci sono un sacco di strategie un sacco di esercizi quali sono le tre cose secondo te che la persona che leggerà ovviamente il libro si porterà a casa e probabilmente si concentreranno all'interno del DNA che guiderà poi la vita della persona soprattutto anche proprio per affrontare il cambiamento beh una delle cose più importanti come ti dicevo la mettiamo nel primo punto è cercare di capire dove sei e dove vuoi andare quindi il primo punto è cercare di guardare in tridimensione quello che è la tua realtà qual è la tua vita in questo momento e cercare di capire realmente qual è la tua direzione la seconda parte importante è riconoscere quel vecchio programma all'interno di tempo scuse abitudini condizionamenti conoscerlo bene realmente e imparare a dire stop a quel programma e la terza parte è la più importante direi dopo che hai capito le cose hai capito il tuo vecchio programma come disinserirlo decidere e passare all'azione perché in realtà è un libro che ti guida esattamente dall'esordio dall'idea del si dovrei cambiare sino a come devo agire ma non lo decido io sarei tu il protagonista io ti guido soltanto con questi capitoli piano piano con un percorso direi molto progressivo non c'è niente di immediato ma è inesorabile se seguite tutto quello tutta la linea tutto questo percorso voi arriverete sicuramente a un raggiungimento sempre più vicino al successo che meritate sì no poi guarda di questo ne sono assolutamente convinto usare la mente ad esempio è una cosa fondamentale la mente deve diventare uno strumento deve diventare vostra amica dovete imparare a decidere e questa è una cosa sicuramente che passo nel libro sì e poi un'altra cosa che ovviamente non possiamo non dire è che giustamente sono tanti libri no si sono scritti tanti libri su crescita personale il mindset e via dicendo ma questo è il primo libro che riguarda proprio la crescita personale scritto non da un formatore che è cresciuto con la crescita personale e insegna la crescita personale ma è qualcosa che viene dal campo di battaglia assolutamente vero sei un imprenditore sei sempre stato un imprenditore e fai questo veramente per un imprenditore e uno specialista della performance nella fattispecie sotto tanti punti di vista da quello fisico a quello mentale effettivamente c'è una piccola differenza quando le cose vengono dal campo vengono dalla realtà vengono dalle azioni come te che vieni da uno sport molto pragmatico dove a cronometro capisci se hai vinto o meno non soltanto a parole i fatti diventano parole ma diventano parole con un senso invece quando si continua dal flow dell'ok ho letto qualche libro di crescita personale in questo libro ci sono solo tre citazioni vuol dire che normalmente in questi libri di crescita personale di self-help di self-improvement sono tutto 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 ogni quattro pagine c'è una citazione per presa da un po' di Anthony Robbins un po' di Ecker un po' di che ci sta però poi alla fine sono favolosi ti rendi conto che sono dei messaggeri più che questo assolutamente sì questo è un libro inedito quello che c'è scritto in questo libro è inedito è stato scritto da zero e questo diciamo è una cosa di cui sono molto felice perché posso mettervi a disposizione anche qualcosina di nuovo e non sempre le stesse storie trite di trite assolutamente sì e per quel che riguarda invece cioè questo non possiamo non parlarne dai cioè penso la prefazione di Giorgio che è lì insomma se vuoi dirci qualcosa in più Giorgio prima di tutto è un amico è una persona che stimo moltissimo e devo dire che per una persona che si occupa di performance come me è molto facile lavorare con lui perché stiamo parlando comunque di un top player con un mindset e un focus incredibile e una persona che ogni giorno cerca di fare qualcosa di straordinario per arrivare poi a quella cosa eccezionale che più o meno poi trova trova molte volte quindi non mi voglio arrogare nessun tipo di merito non mio nel senso con Giorgio però è un grande amico una persona con cui lavoro 100% ed è una persona che aveva molto da dire sul cambiamento tant'è vero che anche lui è nato in Toscana è venuto molto giovane a Torino a giocare alla Juventus ha fatto una pausa soltanto a forse di un anno alla Fiorentina stiamo parlando di una persona che ha sempre saputo interpretare correttamente l'ideale del cambiamento non si è mai opposto al cambiamento ha sempre imparato e si è evoluto anche adesso diciamo che un atleta maturo a 35 anni ha avuto una delle sue migliori hai ragione in assoluto ed è una cosa straordinaria che solo una persona capace di gestire correttamente e di interpretare quello che succede perché il tempo passa tu puoi diventare anche più forte ma devi fare le cose diversamente come hai detto da te prima beh stessa cosa Giorgio è un campione non soltanto nel calcio ma è un campione di cambiamento e beh anche questo deve farti ragionare no? cioè stai guardando questo video dall'altra parte penso che ti porterai a casa veramente tanto tanto contenuto tante cose tanta tanti calci nel culetto no? che probabilmente ti faranno fare delle azioni delle scelte diverse ti faranno abbracciare questo cambiamento ma pensaci no? ok ti parlo io magari mi conosci da tempo cioè ti parla Dario ma se anche un campione del genere è diventato tale perché è riuscito a surfare sulle onde del cambiamento con successo cazzo questa è la chiave che tu devi seguire credo che dovresti farti una domanda e i risultati qua sono concreti sono tangibili c'è nel mondo dello sport c'è nel mondo delle aziende grandissimi imprenditori e penso che anche nel tuo mondo ci debba essere quel cambiamento capace di portarti a quel successo che meriti ne sono sicuro grazie a tutti grazie a tutti